Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro di Fiondolina, appunto la rubrica che noi della redazione della Fionda teniamo in collaborazione con Ottolina con grandissimo piacere che inizio una serie di incontri di cui mi occuperò io, mi chiamo Leandro Cusso e il mio cognome tradisce la mia origine relativamente a quanto sta accadendo in Sardegna in questo momento, sulla speculazione energetica legata alle cosiddette ferro, alle fonti di energie rinnovabili che comprendono tanto l'eolico quanto il fotovoltaico, anche se forse nell'immaginario collettivo di questa lotta appunto, l'eolico è quello che in qualche modo si è associato di più appunto ho l'onore di avere con noi l'avvocato Michele Zuddas, sassarese ma trapiantato a Cagliari, uno dei grandi protagonisti di questi mesi di battaglie che hanno avuto appunto come fulcro l'ultimo mese e mezzo fondamentalmente legato alla proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24 se non ne avete mai sentito parlare è perché questa proposta di legge che arriva alla fine di un percorso oramai che dura da diversi anni ma che ha avuto negli ultimi due, tre anni appunto il fulcro e l'accelerazione, il momento di svolta negativa per la nostra situazione appunto è perché tutti quanti i media stanno sistematicamente boicottando e occultando quanto sta avvenendo in Sardegna e quando ne parlo ovviamente utilizza le categorie politiche che tendono a denigrare i sardi che sarebbero un po' secondo questa vulgata refrattari rispetto a questa modernità suadente che deve assolutamente imporsi appunto a prescindere dalla situazione concreta appunto del territorio sardo e la sinistra imperiale ovviamente è dalla parte sbagliata della storia ancora una volta però ci sono delle tare politiche connettive anche in alcuni della sinistra non imperiale che hanno più a cuore determinate questioni di politica internazionale via dicendo per cui ancora non si capisce bene dal loro punto di vista che cosa sta accadendo e siamo qui appunto per approfondire e per vedere che si tratta di una lotta di popolo appunto rispetto a una situazione totalmente devastante ad ogni punto di vista quindi come prima cosa io mi chiederei in 3-4 minuti di raccontare a modo tuo che cosa sta effettivamente succedendo in Sardegna Cosa sta succedendo? Beh, io la definisco un'aggressione perché non è definibile in maniera diversa è quindi un attacco mascherato dai termini transizione energetica quindi mascherato da parole come green, energia pulita in realtà non è nulla di tutto questo il tutto nasce diciamo come fondamento giuridico europeo dalla direttiva RED2 che impone agli stati membri entro il 2030 di produrre almeno il 32% di energie da fonti rinnovabili questo diciamo è la cornice europea all'interno di cui si muove poi il quadro normativo italiano un quadro normativo che sfugge come dire ai principi democratici quindi al dibattito parlamentare quindi non parliamo di leggi discusse in Parlamento ma a partire dal 2021 parliamo di decreti sotto varie forme quindi abbiamo un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri un atto amministrativo che impone alla Sardegna la realizzazione dell'infrastruttura chiave cioè si chiama T-Renial Link che è quella struttura che consente l'accumulo e poi l'esportazione dell'energia prodotta e quindi questo ci dice già un primo aspetto l'energia che verrà prodotta non è per i sardi l'energia che verrà prodotta verrà esportata altrove quindi questo dovrebbe chiarire quali sono i reali intenti del legislatore dell'epoca e qual è il progetto sotteso a quella che chiamano transizione energetica successivamente viene emanato il cosiddetto decreto legislativo Draghi 199 2021 cioè quando il Parlamento aveva la possibilità di legiferare in materia quindi di bilanciare gli interessi in gioco, i diritti e come dire elaborare un progetto di transizione energetica equo e giusto ha preferito delegare al governo e quindi ci troviamo un nuovo decreto emanato dal governo in cui il governo italiano stabilisce cosa si intende per Aredone come individuare le Aredone in qualche modo entra nella materia urbanistica che per inciso per chi non è sardo è materia di competenza esclusiva della regione Sardegna in quanto regione autonoma ma lo Stato entra proprio nel dettaglio e poi arriva il decreto ministeriale il 21 giugno 2024 il problema fondamentale è che questi decreti quindi come atti autoritativi di fatto perché non sono stati condivisi né discussi con le regioni ma vengono imposti in nome di cose in nome dell'accelerazione della transizione energetica e sottolineo questo aspetto perché queste stesse parole sono state poi utilizzate da un partito di sinistra per contestare il movimento popolare nato in Sardegna cioè dicendo che questo movimento poteva essere anche pericoloso era meglio accelerare quindi si appropriano del linguaggio di Draghi loro di sinistra quindi come hai detto tu prima spesso si trovano dalla parte sbagliata della storia come in questo caso e attaccano le istanze che provengono dal basso e dal popolo che dovrebbe essere il punto di riferimento e cerco di spiegare un po' meglio perché il decreto Draghi è una norma come dire autoritativa dal mio punto di vista anche incostituzionale per quanto riguarda lo statuto della regione Sardegna perché all'articolo 20 individua tutta una serie di aree che dovrebbero essere idonee o non idonee e quindi si sostituisce al governo del territorio da parte della regione Sardegna dando questi criteri per accelerare il processo di transizione energetica che noi dovremmo chiamare speculazione poi spiegherò meglio perché ma la cosa più ridicola di questa norma è quello che dove si legge che le aree non incluse fra le aree idonee non possono comunque considerarsi non idonee quindi come dire sembrerebbe un controsenso qualcosa di illogico in realtà c'è una logica e cioè in base a questa norma scopriamo che ci sono delle zone quindi aree idonee che hanno una corsia preferenziale nell'approvazione dei progetti quelle che non sono aree idonee se sono comunque idonee ma hanno una procedura diciamo un po' più lenta perché sottoposti ad altri controlli quindi abbiamo di fatto una norma che ci dice che a prescindere dal fatto che un'area sia idonee o meno comunque il progetto va avanti cambia la procedura e quindi di fatto cos'è questa norma? è una deregolamentazione di tutto il quadro diciamo di tutti gli aspetti legati alla transizione energetica perché apre le porte indiscriminatamente a qualsiasi tipo di progetto e continua perché a prescindere da questa indicazione cosa ci dice il decreto legislativo? ci dice che nelle more dell'individuazione delle aree idonee perché ciascuna regione dovrà indicare quali sono le proprie aree idonee ma comunque nelle more tutte le aree sono idonee quindi significa che da quel decreto a oggi qualsiasi area individuata in Sardegna ma anche in altre regioni dovevano considerarsi aree idonee quindi con una corsia preferenziale quindi di fatto questo ha determinato l'assalto che diceva all'inizio della nostra terra perché evidentemente la Sardegna diciamo delle forze delle caratteristiche peculiari che dovrebbero essere dei punti di forza e invece diventano dei punti di debolezza e dei punti di discriminazione della nostra isola al contrario cioè il sole e il vento io stavo guardando di recente un intervento di un ingegnere dove calcola che in Sardegna ci sono circa 310 giorni di sole ma questa dovrebbe essere una risorsa da sfruttare per gli investimenti agricoli per gli allevamenti per il turismo non certo per sottrarre suolo a quelle che sono le attività fino a poco tempo fa prevalenti sulla nostra terra quindi dicevo apri il cancello a quella che è la devastazione perché devastazione perché in realtà ciascuna regione quindi anche la Sardegna dovrebbe in un'ottica di solidarietà diciamo nei confronti dello Stato italiano poi io aprirò una parentesi anche sulla questione della solidarietà ma a prescindere la Sardegna dovrebbe produrre un quantitativo di energia ipotizziamo per rispettare la normativa europea pari al 30% del proprio fabbisogno in realtà la regione negozia o meglio lo Stato italiano impone alla Sardegna una produzione di circa 6,2 gigawatt il consumo in Sardegna se non sbaglio è 1,5 2 gigawatt quindi abbiamo un surplus di circa 4 gigawatt di energia da produrre ma i progetti presentati a oggi sono 800 per un totale di circa 3.000 paleoliche per una produzione di energia attesa pari a circa 58 gigawatt quindi parliamo di un interesse pubblico che dovrebbe essere raggiunto con i 6,2 gigawatt ma per come è fatta la norma e l'accordo con lo Stato italiano che parla di produzione minima pari a 6,2 gigawatt e parla di interesse pubblico prevalente per questi progetti si giustifica evidentemente un interesse pubblico per qualsiasi progetto anche nel momento in cui questa produzione di 6,2 gigawatt dovesse essere superata ma se l'interesse pubblico viene raggiunto con almeno 6,2 gigawatt dobbiamo chiederci cos'è tutto quello che cede e parliamo di profitto privato quindi tutto ciò di cui noi stiamo parlando e per cui stiamo combattendo non è la transizione energetica in sé per sé ma è un movello di transizione energetica etero diretto a favore di terzi e a favore del profitto di privati quindi non per i sardi e ritorno a quello che dicevo prima relativamente all'esportazione dell'energia prodotta il terrenial link che è la struttura chiave è in grado di veicolare un gigawatt quindi la domanda che dovremmo porci è cosa ce ne facciamo degli altri 5,2 in più che produrremo e qua giuridicamente sorge un problema perché se noi non siamo in grado di accumulare o trasportare questa energia prodotta viene meno l'interesse pubblico quindi questi impianti non trovano fondamento in quello che il legislatore ha identificato come interesse pubblico prevalente ciò nonostante questi progetti stanno andando avanti quindi si pone diciamo un problema non solo di opportunità politica ma anche di rilevanza giuridica quando vengono presentati questi progetti normalmente devono anche indicare qual è la struttura di riferimento per veicolare l'energia prodotta di fatto sono tutte opere in fase di progettazione quindi si va sulla fiducia cioè si approvano questi progetti immaginando che un domani possa sorgere l'infrastruttura per trasportare questa energia è evidente che qualcosa in questo processo non quadra e ritorno a quello che dicevo prima è mancato il dibattito parlamentare e abbiamo subito come sardi quella che possiamo chiamare una politica colonialista perché colonialista perché di fatto ci troviamo di fronte a un'estrazione a un sfruttamento di risorse ad esclusivo vantaggio di terzi tant'è che in Sardegna ci sono due centrali che utilizzano combustibile carbon fossile e non in previsione della loro chiusura quindi noi avremo una produzione di energia pulita che verrà veicolata tramite le strutture e le infrastrutture di trasporto ma continueremo a tenerci tutto ciò che di inquinante è stato costruito sul nostro territorio e su questi impianti adesso non ricordo uno è Porto Torres l'altro Porto Vesme e poi dovremmo includere anche se non sbaglio anche la Saras ci dovrebbe essere qualcosa se non sbaglio il problema fondamentale è che lo Stato italiano nel 2014 decise di finanziare una transizione di queste industrie elettriche in qualcosa di ecosostenibile ecco sono state finanziate tutte le conversioni nella penisola italiana ad eccezione di queste tre in Sardegna quindi la logica la narrativa dello Stato italiano dice dobbiamo passare la transizione energetica perché voi tra l'altro inquinate di più il problema è che noi inquiniamo di più perché voi non avete contribuito a fare quello che avevate letto quindi come dire cornuti e maziati andiamo andiamo avanti quindi parlavamo di colonizzazione quindi una serie di diktate di decreti che consentono l'arrivo di speculatori in Sardegna la maggior parte piccole aziende alcune nate il giorno prima alcune con capitale sociale di mille euro insomma stiamo parlando veramente di aziende che scommettere sulla loro esistenza da qui a un anno presenta un rischio veramente notevole però intanto possono accedere a fondi agevolazioni tra l'altro la normativa prevede che un privato possa espropriare delle proprietà private se il progetto è di interesse pubblico come questi di cui stiamo parlando quindi assistiamo a delle espropriazioni forzate la prima volta che capita una situazione del genere privato contro privato quindi normalmente la pubblica amministrazione che ha individuato un interesse pubblico avvia l'esproprio per pubblica utilità ma in questo caso la transizione energetica è stata affilata a privati quindi lo Stato ha costruito un quadro normativo affinché dei privati per proprio profitto potessero incidere sulla proprietà di altri privati e quindi utilizzare gli strumenti normalmente attribuiti alla pubblica amministrazione quindi anche dei poteri autoritativi per accelerare il proprio profitto perché poi di questo dobbiamo parlare e andiamo avanti di fronte a un attacco di questo tipo abbiamo parlato di 800 progetti vi vorrei dire anche dove sono questi progetti abbiamo Barumini la regia di Barumini uno dei singoli della civiltà nuragica uno dei più importanti a pochi chilometri dalla città di Cagliari parliamo di Saccargia una chiesa pisano-romanica situata a pochi chilometri da Sassari abbiamo impianti offshore di fronte a Capomannu Sarchitto adesso per chi non è sardo andate a vedervi le foto di queste località e immaginatele con delle pale alte 300 metri e così vi renderete conto di cosa vuol dire ciò che hanno in mente questi signori per la Sardegna abbiamo dell'impianto offshore nella zona di Sant'Antioco e Carloforte nella rotta del tonno quindi c'è tutta la filiera del tonno della zona di Carloforte che andrebbe a perdere diciamo mano d'opera profitto ricavo tradizioni cultura su queste attività a causa di questi impianti offshore parliamo sempre di pale alte 300 metri questa volta situate in mare i progetti poi adesso è stato presentato un altro nel Golfo degli Angeli quindi Golfo di Cagliari anche lì le spiagge simbolo del sud Sardegna attaccate con progetti eolici offshore quindi vedete che la speculazione non si ferma davanti a niente e ci troviamo di fronte evidentemente a una lotta impari tra a volte amministrazioni locali comitati e le grosse multinazionali spesso con investitori privati o anche pubblici che ci ritroviamo all'interno magari della cassa deposito prezzi e risparmi o magari ci troviamo all'interno di fondi partecipati da fondi azioni bancarie sarde quindi abbiamo un intreccio tra politica finanza e speculazione che dovrebbe attirare più di qualche attenzione per capire Falcone diceva segui i soldi no? quando parlava delle inchieste sulla criminalità sulla mafia per capire da dove nasce tutto devi seguire i soldi ecco se noi dobbiamo individuare chi sono gli speculatori chi trae il vero vantaggio da questa politica speculativa da queste non so chiamare la transizione energetica a me è veramente da fastidio chiamiamola devastazione energetica ecco seguendo i soldi scoppiamo chi sono gli artefici e magari ci rendiamo conto che sono i nostri vicini di casa quindi andando avanti di fronte a un attacco del genere i sardi si mobilitano viene proposta una legge di iniziativa popolare cosiddetta Pratobello 24 che rievoca un momento storico importante per la Sardegna perché nel 69 quando nella località di Pratobello lo Stato italiano voleva costruire delle basi militari un'intera comunità principalmente donne si è ribellata all'esercito italiano quindi si è frapposto fra le proprie terre e l'esercito per impedire quella che sarebbe stata la morte di quella comunità perché quelli erano i pascoli dei loro mariti dei loro figli era il loro futuro il loro avvenire e lo Stato italiano voleva distruggerlo in nome di queste basi militari e in quel momento lo Stato italiano dovette fare più di un passo indietro Pratobello non c'è nessuna base militare è rimasto quello che era per la popolazione del luogo e ha dimostrato quindi il fatto che i Sardi uniti la comunità unita David può sconfiggere anche Golia e quindi richiamando questo simbolo per noi Sardi così importante la legge è stata chiamata Pratobello 24 è una legge quindi di difesa di difesa dall'aggressione dello Stato italiano e vorrei citare un fatto che un po' mi ha incuriosito perché nei giorni scorsi l'onorevole Tajani Tajani è dello stesso partito di Picchetto Frattin che se vi ricordate è colui che emanò il decreto ministeriale a giugno 2024 e che è quello che ha confermato la necessità della devastazione più unica in Sardegna ecco l'onorevole Tajani è venuto a dirci che lui appoggerà la legge Pratobello e qua c'è un problema però da spiegare all'onorevole Tajani questa legge nasce per difenderci da lui cioè questa legge noi non l'abbiamo fatta così perché ci avanzava del tempo questa legge potrebbe essere chiamata la legge anti Tajani anti Picchetto Frattin e sono venuti a dirci la appoggeremo quindi la propaganda di certi partiti a volte è talmente prioritaria nelle loro teste da renderli anche parabossali se non grotteschi perché l'onorevole potrebbe andare dal proprio ministro e dire senti correggiamo questo decreto vediamo un po' interroghiamo il governo in Parlamento avviamo un'interrogazione parlamentare e discutiamo in Parlamento di quello che sta succedendo niente di tutto questo approvano una legge che noi abbiamo studiato contro di loro questo è il quadro per far capire di cosa stiamo parlando in realtà poi questa mossa politica rischia di affossare definitivamente questa legge perché di fronte a una presa di posizione del centro-destra in termini positivi di questa legge il centro-sinistra si trova di fronte a una presidente che appunto per quel motivo dice voi questa legge non la dovete votare ed è già successo ha minacciato le dimissioni proprio sostanendo che era una legge della destra cosa che ha detto nei confronti dei miei promotori quindi quando noi abbiamo presentato questa legge abbiamo iniziato a raccogliere le firme a partire da se non ricordo male era il 3 agosto quindi piena estate con temperature tra i 35 e i 38 gradi ecco la presidente e tanti e tante altre persone devo dire purtroppo anche i comitati che combattono contro la speculazione energetica ci hanno accusato di essere di destra di essere dei fascisti ben inteso poi anche questi comitati l'ultima settimana hanno deciso di raccogliere le firme e si sono espressi per la Pratobello perché il carro del vincitore non è mai troppo piccolo quindi si cerca di salire tutti quindi dicevo la legge Pratobello nasce come reazione all'aggressione non è una legge di destra non è una legge di sinistra è una legge che ha abbracciato tutti i sardi di qualsiasi fede politica perché era in difesa del nostro territorio una presa di coscienza se vogliamo nazionale in difesa del nostro territorio e del futuro dei nostri figli quindi abbiamo iniziato a raccogliere le firme e ci aspettavamo 50.000 firme in realtà dopo la prima settimana eravamo a 10.000 dopo le prime due settimane eravamo già a 30.000 40.000 facendo alcuni calcoli io stimo dovremmo arrivare tra le 100.000 le 120.000 poi vedremo il 2 ottobre la data in cui le consegneremo quale sarà il numero il numero esatto ma cosa contiene questa norma questa norma contiene il divieto di realizzare impianti eolici fotovoltaici a terra in determinate aree aree che sono state identificate sulla base di una costante giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato quindi non è che ci siamo inventati nulla ma abbiamo preso quelli che erano i territori che secondo il TAR e il Consiglio di Stato andavano tutelati in Sardegna ci siamo resi conto che questi territori corrispondono a quasi il 98% della Sardegna perché c'è un patrimonio archeologico c'è un patrimonio agro-gastronomico pensiamo a tutti i prodotti IGP DOC pensiamo a tutte le aree dei siti archeologici beni culturali parchi insomma ovunque se voi fate girare la mappa della Sardegna e la fermate con un dito trovate un'area non idonea perché c'è un sito di interesse naturalistico archeologico storico o culturale detto questo noi non vogliamo bloccare la transizione energetica quindi la nostra idea è quella sfruttiamo il suolo già occupato cioè quello che tecnicamente viene chiamato impermeabilizzato cosa vuol dire ci sono i tetti delle case dei palazzi pubblici delle caserme abbiamo le strade abbiamo piste ciclabili abbiamo parcheggi cioè tutte quelle aree dove la costruzione di un impianto fotovoltaico non consente lo sfruttamento di altro suolo questo è lo scopo principale quindi produrre energia pulita senza consumare suolo inutilmente anche perché il rovescio della medaglia di questa transizione energetica è che noi ci dimentichiamo che il miglior strumento che la natura ci ha dato per assorbire CO2 sono gli alberi e quindi più la nostra natura è tutelata è promossa è coltivata più riusciamo ad assorbire CO2 questo è un aspetto che viene detto raramente ma noi abbiamo il più grande strumento i nostri boschi sono il più grande strumento di assorbimento di CO2 l'altro rovescio della medaglia è lo stile di vita perché noi non possiamo pensare di proseguire con un modello capitalista e liberista di produzione e sovra produzione che ha dei costi ambientali ed energetici insostenibili perché poi il fulcro è questo non possiamo pensare di continuare a produrre con questo modello perché non basterà l'intera sardegna per soddisfare l'inigenza energetica io per chi non è sardo consiglio guardate una cartina una foto dell'Italia vista dall'alto notturna fatta dal satellite e vedete dove è il più alto consumo energetico è ovvio che nel nord Italia le industrie energivole solo nel nord Italia ma la sovra produzione non solo aumenta il costo del prezzo dei prodotti che acquistiamo perché il prezzo della sovra produzione del non venduto lo paghiamo nella merce che acquistiamo ma c'è anche il costo energetico il consumo di suolo e quindi questi sono tutti aspetti che non possono essere ignorati perché altrimenti continuiamo ad andare contro un muro convinti che qualcuno ci salverà e non è così quindi non basta una transizione energetica serve un cambio radicale dei modelli di produzione che il sistema capitalista ha prodotto in questi anni un modello che se prima aveva la necessità di mostrare un volto umano perché c'era un'alternativa perché c'era l'alternativa socialista che fungeva da parametro di paragone quindi il capitalismo doveva necessariamente assumere un volto umano per competere con il socialismo caduto il comunismo al socialismo il capitalismo sta mostrando il suo vero volto cioè quello di sfruttamento di competizione di estrazione di risorse limitate e contro le popolazioni locali quindi imperialismo e colonialismo questo è quello che sta accadendo in Sardegna diciamo quindi ritornando alla legge a Pratobello individuate le aree si fa divieto di installazione di questi progetti salvo l'autoconsumo salvo le comunità energetiche perché abbiamo inserito una deroga sull'autoconsumo e le comunità energetiche perché l'Unione Europea in realtà nelle direttive di cui abbiamo parlato all'inizio fa riferimento e privilegia il consumo e la produzione in prossimità cioè l'Unione Europea non ci dice voi dovete produrre per esportare l'Unione Europea ci dice producetevi l'energia di cui voi avete bisogno nelle vostre comunità attraverso le comunità energetiche quindi almeno il 30% per voi lo dovete produrre attraverso fonti rinnovabili questo è stato completamente stravolto quindi la logica è stata stravolta e quindi la Sardegna deve produrre giusto per farvi un esempio la Toscana al 4% scusate al 4 gigawatt di produzione noi 6,2 mi sembra adesso la Lombardia non ricordo non vorrei dire una sciocchezza se fosse intorno all'8 a 8 gigawatt mi ricordavo un numero prossimo a quello della Sardegna non molto diverso ma se andiamo a vedere la presenza di industria energivore in Lombardia è evidente che c'è una sproporzione enorme quindi anche nell'individuazione di quella che è la produzione minima di ciascun ragione c'è stato uno scompenso a danno del sud quindi del meridione d'Italia Sardegna compresa a vantaggio del nord Italia anche qui si pone una questione politica rilevante perché cosa ci dice questo che la politica sarda così come magari quelle di altre regioni è subalterna e qua veniamo a un altro aspetto al perché della legge Pratobello la legge Pratobello è stata come dicevo prima una reazione un'aggressione ma è stata anche una reazione l'inerzia della regione Sardegna perché di fronte a questo attacco la regione Sardegna si è presentata subalterna passiva arrendevole e quindi al diktat di Pichetta O'Fratin la Presidente Todd ha deciso si facciamo subito la legge a ridone e si vanta di averla fatta in tre mesi nonostante avesse sei mesi di tempo e nonostante lei stessa abbia emanato una legge che si chiama legge moratoria che come dire nei proclami doveva servire a bloccare la speculazione energetica ma nelle parole nell'interpretazione della Presidente non blocca niente ed entro un pochino nel dettaglio c'è questa legge l'articolo 1 nella legge regionale 5 del 2024 cosa dice che al fine di evitare di scongiurare impatti reversibili su tutto territorio regionale derivante dalla realizzazione installazione o avviamento di impianti eulici o fotovoltaici si fa divieto e identifica delle aree di realizzazione di questi impianti questo è grosso modo diciamo l'impianto l'impianto della norma quindi ci saremmo aspettati che effettivamente i progetti in corso le autorizzazioni in corso venissero bloccati cosa fa la Presidente fornisce un'interpretazione della norma che dice no se c'è già la dichiarazione di iniziatività vanno avanti non è chiaro poi quale sia il motivo del perché vanno avanti perché la norma stessa dice qualcos'altro poi ci dice però blocca le nuove autorizzazioni e non è vero perché i comuni stanno ancora ricevendo nuove autorizzazioni dove la loro partecipazione è limitata a fornire delle osservazioni però le devono fornire hanno 30 giorni di tempo delle osservazioni che presumono anche la possibilità da parte del comune di nominare tecnici pagarli e avere quindi dei documenti come dire corposi con cui rispondere alla richiesta di attualizzazione cosa che nella maggior parte dei casi non è possibile ma giusto per darvi l'idea di come la regione si rapporta con gli enti locali vi aggiungo un'altra cosa adesso la Presidente stava dando attuazione al famoso decreto Picchetto-Fratin quindi quello che ci chiede di consegnare le aree donne cosa fa? coinvolge a modo suo i comuni dicendoli che avevano sostanzialmente 6 giorni di tempo per fornire la mappa delle aree donne quindi quello che la regione non è in grado di fare con le proprie dotazioni finanziarie e tecniche ha preteso che un comune lo facesse in 6 giorni e il problema qual è? è che poi il comune però oltre ad avere una difficoltà oggettiva nel creare questa mappa al comune non è stato riconosciuto alcun potere politico cioè di fatto il comune è diventato semplicemente un soggetto che svolgeva attività di segreteria cioè questo è il new book coppia e colla queste sono le aree idonee perché industriali queste non idonee perché siete archeologici eccetera ma non è stata data la possibilità di fare e promuovere delle scelte politiche quindi non è stata una partecipazione democratica è stata una scarica barile semplicemente anche perché la partecipazione democratica presuppone che sulla base delle mie indicazioni tu possa correggere il tuo documento o la tua idea rispetto a quel territorio cosa che evidentemente non è stata fatta non viene fatta e potere che non è stato riconosciuto ai comuni e per entrare un pochino più nel dettaglio vi faccio un esempio se le aree industriali sono aree idonee per definizione quindi il comune identifica queste aree come idonee per gli impianti ulici e fotovoltaici e supponiamo che un'azienda occupi quell'area industriale il comune cosa dovrà fare sarà costretto per la propria comunità per quelle limitrofe per le proprie attività imprenditoriali o industriali a identificare nuove aree industriali e dove trova le aree industriali il comune nell'agro quindi di fatto a prescindere qualsiasi identificazione di aree idonee si traduce in un consumo di suolo agricolo e questo il problema che la regione non si è posta e ha ignorato dicendo ah ma sono tutte aree industriali ma se io occupo aree industriali domani dovrò espandermi sul territorio agricolo e siamo punto a capo quindi dicevo legge moratoria no la presidente dice che non interviene su le autorizzazioni in corso abbiamo presentato un esposto alla procura della repubblica perché proprio immediatamente dopo la promulgazione e la pubblicazione di questa legge nel buras un impianto a vilacidro ha iniziato a realizzare un impianto eurico quindi tecnicamente dal mio punto di vista quella è la casistica tipo che ricadeva nell'ambito di applicazione della legge moratoria e quindi abbiamo ritenuto che la procura dovesse identificare se ci sono state omissioni da parte di chi per bloccare quella realizzazione l'azienda d'accanto al suo cosa ha fatto ha accelerato la realizzazione per arrivare a un impatto irreversibile perché se vi ricordate la legge opera per impedire un impatto irreversibile nel momento in cui l'impatto si è già verificato perde la propria ragione d'essere quindi la procura ha aperto un fascicolo è ancora in fase d'indagine ma di fatto quell'azienda ha continuato e come l'azienda di Villacidro ha continuato anche l'azienda di Macomè con un impianto fotovoltaico quindi di fatto questa legge che doveva essere la panacea di tutti i mali si è rivelata un buco nell'acqua oltre il danno alla beffa perché lo Stato italiano tramite il ministro Pichetto Frattin compagno di partito di Tajani che è venuto in Sardegna a dirci e vive la Pratobello cosa fa Pichetto Frattin impugna la moratoria quindi appoggiano la Pratobello che vuole bloccare la speculazione energetica ma impugnano la moratoria che vuole bloccare la speculazione energetica quindi ritorniamo a un cortocircuito mentale o propagandistico senza precedenti cioè sono capaci di dire tutto e il contrario di tutto ma non di bloccare questa speculazione fatta questa moratoria non blocca niente i sardi continuano quindi raccogliamo tutte queste firme il 2 ottobre le dobbiamo consegnare per dare avvio a quello che è un processo democratico e qua sorge un altro problema cioè la Presidente della Regione Sardegna che dovrebbe rappresentare tutti i sardi si dimentica del suo ruolo istituzionale diventa capogruppo nella sua testa del proprio partito in Consiglio e dice chi vota questa legge sappiate che io mi dimetterò quindi esce dal suo ruolo istituzionale perché un Presidente per quanto possa essere contrario a una legge nel momento in cui centomila concittadini la presentano ha solo un compito portarla alla votazione il prima possibile senza ricatti di sorta altrimenti non è più una Presidente mai non è capogruppo consigliare a me va pure bene se si dimette e si mette a fare capogruppo ma va pure anzi forse è meglio anche se non lo può fare detto questo perché l'ho voluto sottolineare perché sono due strade o la legge con l'unanimità dei capigruppo va direttamente in Consiglio quindi viene discussa dal Consiglio regionale oppure deve passare fra le varie commissioni passare fra le varie commissioni significa entrare in un circuito di rimbalzi continui dove è difficile prevedere quando questa legge arriverà all'approvazione e quindi dico io Presidente di fronte a una sollevazione popolare democratica pacifica dove migliaia e migliaia di persone hanno dimostrato di credere nelle istituzioni democratiche io Presidente ritengo non possa rifiutarmi di farla arrivare direttamente in Consiglio quindi e questo lo vedo come un vulnus l'ennesimo vulnus ai principi democratici uno schiaffo morale politica a quei sardi che queste state da una parte hanno raccolto firme dall'altra l'hanno firmata e dimostra l'assenza di una sensibilità politica indegna per chi ricopre quel ruolo giusto per raccontarvi un aneddoto quando avevamo iniziato a raccogliere le firme per la legge a Pratobello incontrai casualmente a un incontro la Presidente della Regione e gli dici ma Presidente non aspetti alle 100.000 firme ne abbiamo già raccolto 10.000 quindi in Consiglio questa legge arriverà prima o poi dimostri di essere Presidente di tutti i sardi la prenda oggi che ha 10.000 firme e avvii faccia avviare l'Inter questo sarebbe stato un gesto politico come dire rispettoso della volontà dei sardi disarmante con fonti degli oppositori e avrebbe dimostrato una sensibilità politica degna del ruolo che ricopre ovviamente così non è stato quindi oggi ci troviamo a scontrarci con una situazione in cui presenteremo le firme ma da quel giorno quindi dal 2 ottobre comincia una nuova battaglia perché dovremmo cercare di tutelare quella legge dai vari tentativi o di svuotarla di significato o di insabbiarla ma comunque è sempre una battaglia impari perché noi dei comitati semplici attivisti politici fuori dal Consiglio regionale abbiamo come strumento principale la protesta la pressione politica ma non dentro le istituzioni ed è per questo motivo che ho promosso in questi giorni un tavolo di confronto di condivisione quindi non è un comitato non è un coordinamento ma un tavolo di confronto fra vari sindaci che sono contrari anche in modi diversi alla speculazione energetica per cercare di creare delle lotte politiche condivise attraverso gli strumenti che i sindaci hanno a disposizione per esempio proprio l'altro giorno il sindaco ha emanato un'ordinanza che fa divieto di circolazione di mezzi pesanti per il trasporto degli impianti eurici e fotovoltaici è ovvio che è un atto politico perché poi la violazione di questa norma comporta una sanzione amministrativa ma è l'aspetto politico fondamentale il messaggio politico che viene dato alla regione che ci auspicchiamo adesso venga fatto proprio da nel gruppo adesso siamo una quindicina di sindaci ma se ne stanno aggiungendo altri l'atto politico portato attraverso rappresentanti delle istituzioni diventa come dire un anello cruciale della battaglia perché i comitati che hanno delle istanze politiche che hanno uno studio una conoscenza di questa tematica in alcuni casi molto superiore a quello di un amministratore locale non per incompetenza o mancanza di volontà ma perché l'amministratore locale ha decine di cose spesso non è semplice non avendo i mezzi poterlo gestire ma con il supporto dei comitati con il supporto legale cercare di fare delle azioni politiche mirate e condivise questo è uno degli ultimi strumenti che abbiamo pensato per tutelare la legge Prattobello dai tentativi di come dire disinnescamento politico e giuridico poi Leandro scusa io quando parlo poi no ma hai fatto benissimo perché c'era assolutamente bisogno di un momento massimamente didascalico per spiegare la questione ridotta all'essenziale poi ci saranno sicuramente altre occasioni per poter discuterne dal punto di vista politico le questioni sono davvero tantissime quelle che si sovrappongono io stesso che come ben sai sono stato appunto coinvolto da Sassari relativamente alla raccolta delle firme per la proposta di legge so benissimo che dietro allo snocciolamento delle questioni tecniche c'è stato l'entusiasmo travolgente dirompente di migliaia di Sardi che come come hai ricordato anche tu nei mesi più caldi dell'anno e nei mesi anche di riposo che non ci dobbiamo dimenticare perché evidentemente tanto tempo libero di lavoratori in tutta quanta la Sardegna è stato impiegato in questo modo proprio massimamente massimamente interesse pubblico e io direi che siamo arrivati alla fine dell'incontro ti chiederei giusto così per concludere ti ripeto una considerazione in qualche modo politica ma rispetto a come dicevo all'inizio appunto quando ti ho ti ho presentato una considerazione politica nei confronti dei detrattori non solo della Pratobello perché quelli sono una categoria come dire abbastanza imbarazzante ma coloro che nella loro buona fede criticano tutto l'impianto in sé concettuale mettiamola così della questione del colonialismo energetico in Sardegna rifiutandosi appunto di utilizzare la parola colonialismo appellandosi a leggi della storia che si vogliono porre al di là del tempo dello spazio della comunità e via dicendo e di chi poi si fa interesse portatore in qualche modo degli interessi di partito di bottega perché tu giustamente hai fatto notare questa cosa che la Todde si è posta come di fatto come capogruppo in consiglio regionale non come presidente di regione ma la cosa ancora peggiore sono quelli che al di sotto del suo partito o dare varie cloache di sinistra a sinistra del PD per così dire oppure proprio dei 5 Stelle stessi vedono nella Todde proprio la vicepresidente dei 5 Stelle quindi tutti quanti quei 5 Stelle e quei militanti là che si ritrovano non solo a difendere l'indifendibile ma addirittura a rilanciare la questione politica della speculazione energetica negando il problema costitutivamente alla radice politica del 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 fatto quindi appunto io ti volevo chiedere così per concludere una considerazione su 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 questa tara politica e cognitiva che cosa che cosa io parlerei di tifoseria nel senso che non sono argomentazioni valide sono argomentazioni la maggior parte prive di contenuti che nella migliore delle ipotesi scade nell'insulto nel senso che di fronte a una mobilitazione popolare senza precedenti i detrattori dicono siete manipolati da un quotidiano siete manipolati da Tizio Caio ma nessuno riesce a argomentare nel merito quindi la critica si ferma su aspetti come dire o inesistenti o comunque secondari e non entra mai nel merito perché nel merito mancano i contenuti e quindi sono stati apostrofati come di destra come fascisti come manipolati dall'Unione Sarda come manipolati da Pili reazionati in tutto questo nessuno però riesce a entrare nel merito per esempio della legge Pratobello o nel merito dell'incostituzionalità del decreto Picchetto Frattin quindi il tutto rimane in superficie e non riesce ad andare a fondo nel tema e poi molte di queste persone sono le stesse che poi hanno con doppio salto mortale triplo carpiato deciso di raccogliere firme per la legge Pratobello o di diventare difensori della legge Pratobello quindi stiamo parlando di mero opportunismo politico ma era propaganda quindi perché questo perché nessuno si aspettava quello che era successo tutti ci davano per spacciarti dopo la prima settimana di raccolta firme quindi tutti si sono tenuti alla larga pensando che fosse una battaglia persa invece è una battaglia vinta a prescindere da ciò che sarà in consiglio della legge Pratobello è una battaglia vinta perché i sardi hanno dimostrato intanto di aver voglia di fare politica ma politica reale non gestione del potere politico politica reale hanno dimostrato che quel consiglio regionale non è rappresentativo della società sarda e questo perché perché abbiamo una legge elettorale antidemocratica che ha delle tagliole che impediscono alla politica dal basso di emergere quindi chi è rappresentato in consiglio è solo chi ha votato la politica dall'alto cioè chi si è calato dall'alto presentato da candidato da la stessa todde non è una politica che nasce dal basso è una politica imposta dall'alto anche quando se il PD doveva scegliere chi appoggiare come candidato politico ha avuto paura delle primarie si è guardato bene da chiedere ai propri iscritti o alla base o ai sardi chi doveva rappresentare il centro-sinistra perché in tutta questa politica era già deciso chi doveva esserci e quindi questi stanno in questo momento impazzendo c'è chi vuol cambiare lo statuto oggi stavo riflettendo sul fatto ma come non volete applicare lo statuto che c'è ricorrendo all'articolo 3 quindi una legge urbanistica però la colpa è dello statuto quindi cambiamo lo statuto quindi l'inefficienza l'incompetenza l'ipocrisia di questi politici arriva a dire noi facciamo tutto giusto e lo statuto che è sbagliato quindi ritornando quindi ai detrattori io a me non preoccupano i detrattori perché poi alla fine si sciolgono come neva al sole perché non c'è contenuto a me preoccupa più chi ha e gestisce le leve del potere perché lì al di là del loro pensiero hanno la possibilità di gestire un processo democratico e farlo morire che è quello che vogliono fare perché non lo concepiscono non è possibile che il popolo decida da sé cosa fare addirittura voglia presentare una legge vi racconto un aneddoto e poi chiudo quando ho partecipato all'incontro alla regione un'assessora ha preso la parola è iniziato il suo discorso dicendo io amo il popolo io mi sento una del popolo mi è capitata a volte di parlare con persone normali ora a me a voce alta è scappato di dire ma con chi cavolo parla tutti i giorni se ci capita qualche volta alle persone normali chissà parlerà con Dio durante la giornata parlerà con delle persone che noi umani non riusciamo a concepire ma questo è il loro concetto del ruolo che ricomprano cioè noi siamo per loro a un livello sottostante noi siamo quelle persone comuni con cui loro a volte parlano per errore per casualità ma non per volontà e lo dimostrano e per chiudere dico io spero che non solo in Sardegna ma anche visto che ci sentono in altre parti d'Italia abbiano la forza il coraggio la determinazione di ribellarsi a questa politica fatta di tecnici questa politica che di politica non ha più niente ma è rimasta solo quella parte di gestione del potere perché di questo stiamo parlando gestione del potere finanziario economico ma di politica sociale per i cittadini non se ne vede più perfetto io Michele ti ringrazio davvero di cuore per l'incontro di oggi ricordo appunto come ti ho detto che come ha detto prima che si tratta di un momento molto importante per tentare di rendere conto di quella che è stata la mobilitazione degli ultimi mesi e tentare di offrire le coordinate che in qualche modo possano poi portare chi sta subendo delle situazioni analoghe penso ai nostri fratelli siciliani oppure pugliesi ma che ancora come dire hanno hanno non si sono ancora organizzati in modo così appassionato radicale come siamo riusciti a fare noi sardi un po' anche sorprendendo quel luogo comune che ci avrete appunto visti come i più rassegnati e passivi in assoluto rispetto a questi movimenti storici quindi ti ringrazio ancora saluto tutti quanti i telespettatori e rimando ai prossimi incontri per continuare ad approfondire la questione della speculazione energetica in Sardegna attraverso le voci dei protagonisti grazie buonasera grazie